Siamo qui a Como, al Mandarin Oriental Hotel di Lago di Como, che abbiamo aperto dal 15 di aprile. Siamo arrivati all'Electrolux e abbiamo messo la Terma. Come va? Perché questo è il secondo Mandarin in Italia, già a Milano c'è la Terma e abbiamo messo anche noi qui la Terma, perché hanno una partnership con Electrolux in tutto il mondo. Il flusso della cucina funziona tanto. Sicuramente io uso molto l'abbattitore e il sottovo del vacuum all'interno della Terma, che per me è fondamentale, perché essendo che la mia cucina è tanta preparazione, il servizio deve essere molto fluido e quindi questi per me sono importantissimi e indispensabili. La sera quando si pulisce, si prende l'induzione, è una cosa velocissima. Prima devi alzare, le cucine è un po' più retro, alza, togli il pezzo della cucina, pulisci, lo metti in lavastoria, invece adesso è tutto un piano unico e sono molto veloci i ragazzi a pulirla. Quindi la cosa bella è quella. E poi anche se arriva qualcuno, passa il panno pelle e festa finita. grazie. grazie Grazie.